buongiorno siamo qui alla 125esima fiera cavalli cavallo magazine trasferta non siamo più nel nostro stand ma siamo qui nello stand di natura cavallo con il presidente dell'associazione mauro ferrari buongiorno a tutti cosa avete combinato quest'anno qua ma allora quest'anno è il nostro trentacinquesimo abbiamo raggruppato tutte le attività che abbiamo sempre fatto in tutti gli anni dunque natura cavallo cultura gastronomia ambiente tramite il turismo equestre ma le vostre parole d'ordine quest'anno sono particolarmente apprezzate condivise da tutti sì quest'anno abbiamo tre parole d'ordine è sicurezza ambiente e inclusione e qui vedo tra l'altro un sacco di di cose che richiamano alla natura al parco perché avete il bosco didattico certo nella parola ambiente abbiamo quest'anno abbiamo fatto un accordo con federparchi sottoscriveremo un protocollo d'intesa per il turismo equestre nei parchi e abbiamo condiviso lo spazio del nostro stand per far conoscere ai più giovani ma tutti sensibilizzare la biosostenibilità e il lavoro che fanno nei parchi per cui le persone potranno venire qui non solo riposarsi su queste seggiole specialissime ma anche fare una specie di tour nella teoria e nella storia e nella cultura dei nostri parchi grazie agli operatori che saranno qui proprio a questo scopo sì allora parleranno magari meglio e spiegheranno meglio i responsabili di parchi comunque hanno messo delle sdraie che la gente può venire a riposare e con codice qr vede la storia dei singoli parchi poi ci sono dei visori per avere delle sensazioni immersive nei parchi e poi c'è tutta una serie di un vivaio didattico e altre e anche altri argomenti proprio che parlano specificatamente dell'ambiente della salvaguardia dell'ambiente stesso tra l'altro visto che i vostri cavalieri quest'anno sono particolarmente belli ho notato una novità nella vostra uniforme l'altra parola d'ordine che abbiamo detto prima è sicurezza allora noi vogliamo da quest'anno sensibilizzare partendo dai nostri soci all'utilizzo del casco per garantire maggiore sicurezza perfetto quindi saranno ancora più belli cavalieri di natura a cavallo grazie presidente ci vediamo in questi giorni grazie a voi scelgo la pianta l'aspergularia con roggiccio robusto eh sì fantastico perfetto adesso io mi accomodo in sardegna praticamente vi racconterò come va e com'è il visore ogni persona magari ecco se hanno anche dei visori personali oggi esistono anche dei visori usa e getta quindi diciamo molto anche economici parco naturale dell'asinara ah parco naturale dell'asinara fantastico uno dei miei posti preferiti al mondo è meraviglioso sì 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 è spettacolare e si vedono tutte le specie ovviamente tipiche di questo di questo luogo oh ma posso portarmi a casa questa mascherina è veramente splendida grazie a tutti